Sono Giovanni Braggion, ho 55 anni, sono residente a Rovigo, sono sposato con due figli, come lavoro sono medico presso l'ospedale di Rovigo, da alcuni anni sono impegnato politicamente nell'Udc, dove sono anche coordinatore comunale per Rovigo e sono candidato sempre per l'Udc alla Camera dei Deputati. Se nel caso fossi eletto mi batterei per il Poleside perché ci sia una maggior considerazione a livello nazionale delle nostre istanze, per un maggior sviluppo economico, curare che ci sia un maggior sviluppo economico e culturale. L'Italia ha bisogno soprattutto di etica, di serietà nella politica e nella vita culturale, qui è il nostro vero gap con gli altri paesi europei, ha bisogno di legalità, ha bisogno poi per essere più concreti di sviluppo economico che non ci può essere senza etica, senza legalità, ha bisogno di lavoro e di proteggere la famiglia e le persone che lavorano. Nel caso venisse eletto mi prometto di lavorare seriamente. Non si possono fare promesse, non sono il tipo da fare promesse elettorali. Posso promettere, come ho sempre lavorato con impegno, di svolgere questo impegno che spero di avere.